Questa è la mia storia. Una volta vivevo in un villaggio felice, pieno di persone che mi volevano bene. Ero come un figlio per loro e io ricambiavo il loro affetto aiutandoli con il lavoro quotidiano. Un giorno il saggio del villaggio a cui volevo bene come un padre mi chiese di andare a tagliare un po' di legna come al solito. Ma ecco che proprio mentre svolgevo il compito affidatomi iniziai a sentire delle grida che provenivano proprio dal villaggio che tanto amavo. Con il cuore in gola iniziai a correre verso la mia casa pregando incessantemente che non fosse successo nulla di grave. Ma quando finalmente lo raggiunsi mi si parò davanti una scena terribile. Il villaggio era stato attaccato, tutto era in fiamme, c'erano morti ovunque e un'armata infinita di zombie stava sterminando i pochi superstiti rimasti. Guardai verso l'abitazione del vecchio saggio, sembrava che fosse scampata l'incendio. Perciò senza perdere un secondo mi gettai nell'inferno per soccorrere l'unica persona che io abbia mai chiamato padre. Quando raggiunsi la sua abitazione entrai di fretta, ma non avevo fatto in tempo. Non ero stato abbastanza veloce, lui non c'era più. Ero disperato. Ma chi era il responsabile di tutto questo? Per scoprirlo non mi restava che andare dalla strega delle paludi, lei avrebbe risposto alle mie domande. Di solito non accettavo intrusi nel suo territorio, ma per me fece un'eccezione. Strega delle paludi, vengo qui animato soltanto da vendetta. Per favore, te che sai tutto, dimmi chi ha sterminato la mia famiglia. Caro ragazzo, lo so benissimo chi è stato, ma non ti conviene metterti contro di lui, è troppo forte. Dimmi soltanto chi è, il resto è affar mio. Va bene allora, è stato il terribile signore oscuro, Lord Herobrine, che quella notte era uscito con lo scopo di uccidere proprio te. Meh? Sì. Strano però, di solito per questi lavori non va mai di persona. Si vede che ti consideravo una preda importante. Comunque ti voglio fare una profezia. Tra poco arriverà un eroe molto famoso ad aiutarti con la tua avventura. Quindi non abbatterti, se perseveri ce la farai. Capisco. Grazie strega delle paludi. Sono soltanto passati alcuni mesi da quando te ne sei andato, e a me sembra già un'eternità. Mi manchi veramente tanto. Ehi! Dove sono? Ma che razza di posto è questo? Aspettate. Aiuto! Aiuto! Ma chi è questo? Sento delle voci provenire dal mio laboratorio. Qualcuno... Come si esce da qua dentro? Aiuto! Ma chi è stato? Un villico che si è messo dentro il laboratorio o cosa? No, no. Qualcuno è nel mio laboratorio. Vedo il nome, vedo il nome. Chi è questo tizio con la testa fatta a cubo? Dove cavolo sono? Aspettate, vediamo un po' qui chi c'è. Chi di avere sei tu? Io me ne vado... via 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 via. No, torna qui ma... Ma aspetta, io ti conosco. Ma tu sei Randy Renna. Seguivo la tua serie su YouTube. Facevi anche tu Minecraft Hardcore. Ma come sei venuto qui? Io lo sapevo Però poi mi capitava E qualcuno mi rapiva Perché Perché mi seguo Ma ciao Ciao arrivederci Madonna qui Ma No ma veramente Ma Allora la strega diceva il vero Sei arrivato proprio al momento giusto Randy Mi serviva proprio un aiutante Tu non me la conti giusta Però visto che sono qua A questo punto ti aiuto Poi però fai tornare a casa Ok va bene va bene Allora Come ho fatto con tutti quegli ospiti Perché ormai Ne arriva uno al giorno di ospite nel mio mondo Non capisco cosa sta succedendo Però Insomma Adesso dobbiamo armare Randy Ho un'armatura qui per te Per aiutarti insomma Per la tua impresa Allora L'armatura guerriera Che è a protezione 4 Addirittura Questa Proyectile protection Cioè di tutto e di più qua E Prenditi anche dei cloud boots Questi li utilizzi Nel caso Tu cada da grandi altezze Puoi utilizzare quelli E ti prenderai addirittura Una piuma dorata Questa piuma d'oro Aspetta aspetta Non ti fa fare il danno da caduta Questa la conosco Si la conosci Perché tu insomma Facevi la better dungeon Mi sembra Si 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 Infatti qui ho anche del materiale Mi frego un po' di Mi frego un po' di cibo Mi frego un po' di cibo Prendi tutto Fai come se fosse casa tua Ok Dove è un accendino Che bello questo Vuoi bruciare Aiuto Tutto 33 puntate Quante sono ormai 34 puntate Mi bruci così tutto E ma è bello Di violenza Perché non esplodere Non è divertente Prenditi queste aquatic pallets Prova a metterle a cucinare Intanto Ok Che dovrebbero darci Una cosa interessante Adesso ti darò anche Un compito Una quest Una missione Al nostro Randy Che dovrai Cucinare Nella Nella formace Non va Ah pur aquatic pallets Ah ok Devi prima tipo Trasformarli Nel crafting table Ah Tipo li metti Tutto Lo riempi tutto Con nove Ah perfetto Infatti è quello Che stavo pensando Anche io Vabbè intanto Metti quello E poi ce ne procureremo Degli altri magari Perché ti danno Una spada potentissima Minimo ce ne serve Un'altra Perfetto Dove ti rilascio Questi qui Li metti Nella chest Questa qua Dei drop Ok Perfetto Allora in questa puntata Potremo fare tantissime cose Ho scoperto Un nuovo luogo Cioè Praticamente Un luogo misterioso Che sembra essere Una zona volante Cioè Un tempio volante Potremmo raggiungere quello E Ci sarebbe anche Il villaggio del deserto Una piramide Che non ho ancora esplorato Quindi Dovremmo andare via mare Insomma decidi tu O via aria Useremo una nave volante Oppure via mare Su un tempio In questa puntata Poi potremmo anche andare Nel tempio di Erobrine C'è un tempio segreto Che dovevo tornare Io devo No Aspetta Isola volante Aspetta C'è questo qua Infatti Lo vedevo prima Che cavolo hai In mano Che cos'è quella Ha una arma potentissima Si chiama la Cyclope Steph E stai molto attento Che ti uccide in un colpo Se per caso Cos'è È un crocifisso Sì Una cosa leggera Se è un crocifisso Lo so Sì L'arma di Constantine Una cosa così Però Lancia Occhi di Cyclope Quindi Ok Molto interessante Io mi rubo Una tua spada Però C'è un Iron Sword Qua usata Un Iron Sword Proprio Non ti conviene Ti conviene Una spada Un po' più potente Vediamo se la trovo Allora La Monking Sword È una spada Leggendaria Potentissima Però Se muori La perdi Ma non importa Ma non importa Dai te la dota Oh mio Dio In qualche modo Me la riprenderò Oh mio Dio Oh mio Dio E anche un arpe Delle frecce Aspetta Mi sento davvero potente adesso Ecco Sì dai Armiamo il nostro Randy Perché Lo sei armato Ah diventa difficile Oh il long boom Perfetto Sì Mi servono delle frecce Sempre lì Sì No no Te le do io Te le do io tranquillo Va bene Prendi qua Siamo pronti Siamo pronti per andare Quindi tu cosa vorresti fare In questa puntata Andare Nel tempio volante Oppure Nel tempio a terra Eh sì No no Andiamo al tempo volante Perché È un po' più bello Un po' più Eh sì Qualcosa di diverso Insomma Esatto Esatto Mettiti i cloud boots Per ora Soltanto per ora Ce li ho Ce li ho Ce li ho Adosso Ok E salta magari qui sopra Perché dobbiamo Uccidere un paio di granchi qua Ok Per procurarci La quatic pallets Però non vedo i granchi giganti Non è che ce n'è uno in casa Eh ce l'ho proprio dentro casa Il granchio gigante Ok Allora Uccidiamo quello Tu Prenditi la pistola anche da pirata E prenditi anche le munizioni Questa qua Spara proiettili Insomma Come Ogni pistola Alla fine Adesso ci Ci mettiamo Destra e sinistra Tipo Cioè insomma Tu continua a spararli Al limite salti agli indietro E ti butti dalla terrazza Se si avvicina troppo Perché ti uccide in un colpo Va bene Oh cavolo Ok Va bene Va bene Pronto Io sto caricando No 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 L'arco La pistola La pistola Ok Bravo Sembra che non si sia accorto di nulla No io sono qua Tu resta lì Lo fermo da un culo Mi uccido È proprio Come se no ci fosse un domani Guardalo che bello Mi fisse Dice perché quel tizio mi spara È molto resistente Vediamo quanta vita Ah 300 300 Sì Nonca poco Vediamo se tiro Io qualcosa Ok Guarda Ti do una mano così Oh perfetto Vai Perché ha 8 alla volta Se no non la finiamo più Ecco Oh là Quanto gli manca adesso Eh 80 84 76 30 È andato Ok Mamma mia Mi sono trasformato io Che cavolo Ciao Hello È perché la morfa attiva Non spararmi Sono tornato al cube Sono tornato al cube È bellissima sta mod Ma è quella che ti permette Di trasformarti in qualsiasi mob E dormi un secondo Perché se arriva notte Dopo spunano L'inferno proprio In terra spuna Eh c'è Ci sono mostri Nelle vicinanze Non mi fa Mannaggia Non mi fa dormire Vediamo se clicco io Sì adesso anche a me Vabbè Ok Non importa Dai proviamoci lo stesso Allora Quanto hai dato Della Quantic Palette Non hai dato niente Quello lì No Niente Vabbè allora la spada leggendaria Ce la terremo per dopo Tu hai una spada Sì hai la Monking Sì ho la Monking Ok Allora andiamo qua Guarda qua cosa c'è Sì C'è una nave Volante Ah C'è una nave Vedo Noto Noto Prova a saltarci Con i Cloud Boots Ce la dovresti fare Oh yeah Ok Allora se noi adesso Al 3 Premiamo Assieme Sul Sul timone Tu dovresti metterti Sì Dovresti metterti Sul posto Del passeggero Quindi Al mio 3 Proviamo 1 2 3 E io sono Sotto in Allora facciamo una cosa più semplice Adesso la metto a terra Così dovresti poterlo premere Comunque il timone Aspetta mi sposto un attimo Tu coprimi dagli zombie Al limite Che Che fanno male Se sono cattivi Però si è spaccato un pezzo dietro Così Prova a venire Arrivo 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 Velocemente arriva che tutto il mondo arrivi Prova a premere il tasto destro sul timone Tipo dall'altra parte Ok ci sono Perfetto Stiamo andando Funziona Ok c'era proprio un creeper davanti Ti accordo adesso di noi Adesso arriva il creeper E ci fa saltare Tutti quanti insieme Molto Molto calorosamente Perché i loro salti Sono un po' tipo I abbracci Per noi Strani umani E là E fa Ehi Gabby Vieni qua Fatti dare un abbraccio Boom Si C'è poi quella leggenda Che hanno bisogno di abbracci Non si sa perché Che poi non hanno neanche Le braccia per abbracciarti Non possono ricambiare Però per quello Sono dei Dei menomati Tu devi andare lì E dargli tutto il loro affetto E quando arrivi Al punto giusto Dell'affetto È una cosa anche Abbastanza semplice E veloce E loro esplodono Si Perché non sono fatti Per reggere Queste emozioni forti Si No Sono caduto No io ti vedo sopra Ti vedo sopra Ma io sono giù Eh ma forse è un bug Cioè tu ti vedi in ritardo Perché laggano leggermente Cioè io ti vedo sopra All'inizio ti ritipo Io sono caduto Che cavolo Che cavolo Vedo Cose che voi umani Non potete neanche immaginare Anche io però Ti vedo sparire E riapparire Manco fossi umano Ok Era da queste parti Il castello Aspetta che non lo trovo più C'era un tempio volante Si lì c'è il cimitero Ma quello volevo andarci dopo Che tipo Lì ero morto Purtroppo In una puntata E mi sono salvato Grazie al clone Che se non è Eccolo qua Eccolo qua Il castello Io sono ancora Nell'ether di minecraft Sto continuando a cadere Adesso ti ritiro il trasporto Tranquillo Va bene Ok E ora siamo davanti Aspetta che mi parcheggio Proprio bene bene Che così ho anche il ponte Per andarci Se vado un po' più a destra Dovrei farcela Comunque sento Dei rumori che non mi piacciono In questo castello Secondo me è pieno di trappole Eh Eh Ok Eh Castelli solitamente Sono sinonimo di boss E nemici cazzuti Oh sono con te Ok 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 visto che era soltanto Un bug Ok sto continuando A sedermi però Ok Aiuto Togliti da lì Perfetto Mamma mia Ti ho detto La faccia Ti ha sfiorato Mamma mia aiuto Occhio che è un arco Quello assurdo Prova con la pistola A sparargli La pistola è fortissima Anche con la pistola Marco Ovviamente 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 Ok Ok Io sto cercando Cerco di risalire Vediamo se Io comunque ho anche un bastone di cura Che non so se funzioni in multiplayer, potrei anche provare a curarti mentre spari ti curo quanti quali hai te? sono pieno è andato, è andato sei uno scheletro, per un attimo ho temuto che fossi crepato ti ho visto che può diventare tutto le... aiuto vuoi rimanere scheletro? come faccio a togliermi da... devi andare su opzioni perché ha dei tasti strani vai un attimo su esc, controlli eccolo là tornato il vecchio Randy perfetto oh mamma oh mamma vai via ti sei ritrasformato perché ogni scheletro ha un suo ID ci hanno armi diverse ma continuano a uscire li massacro io li massacro io mi sto massacrando tutti morti cerco di sparare anch'io perché quest'arma ti one shotta ti uccide in un colpo e il tuo clone non... sai che adesso che ci penso non abbiamo ancora utilizzato il tuo clone nel senso se adesso muori muori e basta eh vabbè muoio muoio non me ne farò una ragione sono un uomo d'onore io anzi una renna d'onore ok adesso aspetta che spacco qui ah 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 gentleman no no Randy per un pelo ti stavi beccando ti stavi beccando oh 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 ok non entrare in questa stanza che sto facendo il massacro ok ok aspetta che io mi hanno mi hanno mi hanno messo il danno da pozione no non entrare non entrare non entrare no 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 non entro non entro mi sono messo un attimo i cloud boots sono sono al piano superiore io quanto danno da pozione ho? aspetta che mi curo sono io qua sono io qua mi sto curando io col bastone di cura ok ok ehm di qua non c'è niente vuol dire che puoi salire tranquillo eh ok proviamo vediamo cosa c'è puoi salire tranquillo ok quindi non c'è niente tu hai fatto fuori gli spawner da questa parte a destra no non c'è niente ok ah non ci sono niente ok perfetto secondo me dobbiamo entrare dentro il castello che non ci siamo entrati comunque quanto mi dura ok ancora due secondi perché scusa ho tre cuori un secondo solo ok vai vai tranquillo anzi uso ancora il bastone di cura anzi no anche lui si deve caricare oh oh ecco lì ok dai vai 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 fuori ti stavo sparando passo di blocco ok non sparare non sparare no tranquillo non sparare ce ne sono un paio attenzione ok chiusi chiusi tanto dagli spawner ok ottimo ok missione compiuta non è che in questo castello c'è un boss assurdo perché sai nella divine ci sono sempre boss incredibilmente forti cioè sono una cosa incredibile vediamo qui sopra che è un tipo un campanile si è un campanile c'è una cesta qui sopra vuoi avere tu l'onore di aprirla dai oh una cosa inutilissima tranquilla me la posso prendere io ma cos'è 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 guarda che bella mamma mia che spada hai in mano eh tanta roba questa è mia arrivederci arrivederci è stato un piacere no ma sembra incredibile serve quasi da provare su uno di quegli scheletri per vedere l'ho buttata lì a terra no no ma vabbè tu hai quella gigante scusa ancora peggio scusa ok via la mia spada di diamante che ormai in confronto a questa sembra una merdazza quanto danno fa più 8 quindi più di una di diamante che fa 7 buona eh questa qua è più 9 questa che ho io quindi siamo là siamo là più o meno comunque sono entrambe rosse rosse e veloci una Ferrari che bello adesso voglio provarla un secondo quella spada tipo qua sugli spawner vediamo cosa fa ah sto vedendo ti sono dietro ti sono vicino ah danno da Wither gli da danno da Wither è come se fosse un Wither è buonissima cioè è praticamente come una spada avvelenata eh ho il tocco magico si sa è risaputo ok scendi adesso andiamo continuiamo a piedi ok ci buttiamo qui nella palude ok salude yah comunque sono davvero delle belle mod quelle che hai scelto per questo pack mi piace devo dire che si si mi piacciono rende un po' l'esperienza di minecraft più carina ti fa trovare dei dungeon casuali molto belli tipo quel castello era carino si si io sto utilizzando la exit che è pure un buon mod pack si si anche per l'esplorazione si si mi scuglio fra tutto mi pare guarda qua che albero questo è l'albero della divine rpg questo si ti da degli attrezzi speciali tipo che si va solo facendo questo albero ma non serve nemmeno troppo prenderlo e ti da del legno verde se lo tagli cioè ti puoi le wooden planks verdi proprio flosforescente interessante quella è la tua nave ah quella vecchia io un tempo fa nell'episodio 30 avevo raggiunto questo posto sono sceso e qui c'erano tantissimi spawner che adesso è giorno ma non spona nessuno ma ci sarebbero qua sotto le tombe ci sono dei spawner che praticamente fanno uscire tantissimi mostri guarda qua chi c'è invece c'è un tizio che se premi tasto destro su di lui è un mercante tipo ti da roba ti da oggetti rarissimi oh addio e lui è spawnato con questo posto cioè è lì e ha una cesta sotto i piedi che non riesco a prendere e ho paura di liberarlo cioè tu ce la fai prenderla a vedere cosa c'è dentro no però potresti è un piccone potresti fare così potremmo scavare sotto tipo sotto di lui vediamo esatto vediamo cosa c'ha attento eh c'ha qualcosa sì sì ma secondo i miei calcoli dovrei trovare la cesta sì nove di ferro così non serve comodo comodo dai però è comodo pure di là c'è un'altra casetta ah sì dove qui però è vuoto ah è vuoto lì ok strano però ok sì è un luogo stranissimo questo oh c'è un'altra c'è un'altra cassa però vieni vieni ah sì mi serve ce l'hai un piccone per rompere eh sì prendi beh ok aspetta vediamo guarda te cosa trova Randy che cosa che neanche io trovo ah no è vuoto però peccato niente così venga venga grazie ok adesso dobbiamo andare in un posto abbastanza oscuro che ci sono tanti tanti nemici lì dentro io avrei un po' paura di mandarti qui senza clone ma no eh beh ormai quel che si è fatto si è fatto tieni shift premuto e guarda cosa c'è qui con questo down che cavolo è allora ok allora c'è anche un'altra porta che non avevo guardato per lo scorso episodio lì in fondo lì in fondo non ho guardato vedi dove c'è la luce dritta io avevo praticamente utilizzato una freccia con dato che ho la better archery una freccia che ci avevo attaccato un ender pearl con il longbow l'ho sparata lì e aspettate io ho un paio di ender pearls con me tu potresti fabbricarmi delle frecce e poi lanciarle aspetta prova aspetta te le passo qui le unisci tipo metti la freccia sotto e l'ender pearl sopra dovrebbe darti delle ender arrows ender arrows ok ne ho due ok la prima lanciala su quel posto in alto tipo spara lì davanti là dove c'è praticamente il muro ok ce l'hai fatta guarda un po' intorno c'è una chest con un pezzo di armatura ottimo una mitryl chest plate sembra buona vabbè ti ritipo da me ora ok è una figata questa le frecce non lo sapevo ci dobbiamo buttare giù devi tirare la freccia praticamente in quel buco dove ci sono le due torce ce la fai senza che le fare io ti ritipo nel caso ok ci sei perfetto io vedo una strana porta in lontananza che non è che mi aspetta mi aspetta è un luogo scuro questo è il tempio di erobrine il tempio aspetta guarda per stare in tema con il tempio adesso io stai attento a quei pipistrelli non si sa mai perché adesso diventerò un pipistrello ma puoi volare si puoi volare il potere aspetta che bello ok guarda guarda che vado in giro così posso controllare un po' la zona sai in questo tempio voglio un attimo pararmi il culo perché più che altro voglio diventare anche io un pipistrello come faccio devi uccidere quel pipistrello davanti a te se lo uccidi lo puoi diventare non sei tu questo qui non lo posso uccidere no 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 quello lo puoi uccidere perfetto i tuoi pipistrelli andiamo andiamo ok premi due volte barra spaziatrice per volare devi premerle velocemente ok perfetto ok controlliamo allora c'è un ragno sotto come vedi questo tempo l'ho trovato e l'ho chiamato tempo di erobrine perché vedi c'è sta cosa di erobrine qua si che è che è quella cosa di erobrine uccido un attimo i ragni per sistemare la situazione qui dentro c'è un nemico potentissimo un mago nero chiamato lich quindi penso che è meglio che torniamo lo conosco bene il lich si torniamo molto bene normali si ok allora aspetta è della better dungeon vero il lich c'è un creeper dove qua aspetta aspetta creepy creepy ok ucciso creepy creepy aiuto allora questa volta dato che la scorsa volta sono entrato e mi ha chiuso dentro perché c'era la porta di ferro e mi ha ucciso questa volta facciamo così e basta ok ora stiamo molto attenti hai delle torce io si aspetta che ne metto un paio eccolo lì no ma questo è un lich diverso lo conosco io gli sparo è un egromante questo tipo gli sparo si cerca di farlo fuori perché cosa fa cosa fa spara spara aspetta che gli metto danno da wither ah ok questo aiuto 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 io ho paura lo conosco bene ok si 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 cosa fa questo è della better dungeon in realtà è molto stupido evoca questi monster qua e poi spara delle palle di delle pallette viola tramite quella staffa ok che ti fanno danno e poi crea della dell'argilla appunto ah questi blocchi qua si 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 esatto che ti intrappolano eh infatti a me tipo mi ha intrappolato con quella e mi ha ucciso tipo mi ha massacrato cavolo è questo sono degli zombie no il miner c'è un miner eh uccidilo uccidilo cavolo che sta attaccando ah aiuto 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 aspetta che lo uccido dai forse l'ho intrappolato l'ho intrappolato bella 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 vai vai massacriamolo vai 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 che muore è ucciso oh grande grande ha droppato guarda cosa ha droppato ha droppato un botto di roba ha droppato ce la fai? tu sei vivo? si si sono vivo ah ci sono gli spawner qua dietro ecco perché aspettate che voglio vedere cosa cavolo ha droppato che è una roba assurda prendi 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 tanto uccido no gli spawner aspetta sono finito dentro gli spawner merda ah ma sono diventato un miner sono diventato ah si aspetta che li faccio fuori ok mangio eh no sono mi metto fuori così oh la alla fine in due non è stato affatto difficile aspetta che metto le torce no infatti in due è abbastanza io non so come ho fatto a crepari la scorsa volta sono stato proprio un abbo vai c'è una cesta eh là dentro in quella cesta avevo trovato un corset bone però me l'ha droppato lui adesso si si il corset bone praticamente ti evoca gli scheletri però meglio che non li uso perché magari ti attaccano a te dopo eh potrebbero si potrebbero farlo io sento ancora degli stronzoni però da queste parti qua ma non è che rompendo io ho la minimappa posso vedere che se c'è qualcuno vicino e non c'è nessuno per fortuna aspetta la veste lice robe mi ha dato una specie di veste cosa fa la veste del lice questo non lo so non l'ho mai sentito aspetta che mi metto un attimo voglio vederla rimettiti in un versione ecco esatto si la vedo anche io sono abbastanza interessato adesso me la metto guarda te oh guarda te l'ho vestito negro vante è sembra un villager spero che sono tipo mi ha la stessa testa ciao hello no ma è bellissima ma se io tipo ti uccidessi posso diventare eh si però meglio che non lo fai perché anche se ho un clone poi perdo tutto l'inventario tipo me lo cancella è quello il brutto peccato potrei sostituirti tipo a tradimento potrei sostituirti in questa serie oh un altro miner avevi ragione c'era qualcuno qui vicino si si l'ho detto aspetta aia aspetta che ce l'hanno di vita questi eh sono potenti sono molto potenti oh c'ha un arco assurdo no 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 aspetta muori 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 si si usciamo usciamo perché secondo me spawnano tipo a causa degli spawner ancora forse ce ne sono altri in giro non lo so ma io penso che abbiamo già fatto abbastanza scappiamo torniamo su che usciamo da questo posto io torno torno pipistrello cioè eh si si dai torniamo pipistrello così cioè ma alla fine perché abbiamo usato le frecce se potevamo direttamente da pipistrelli volare qui giù no dai però era più bello far tutta quella scena figa con le frecce si si aspetta non capisco è un casino dai dai oh ci sono hai vomitato un pezzo di pane vabbè io scappo col bottino ciao Gabby no io non posso tornare normale aspetta mi tolgo il cloud secondo me è la veste del lice che non mi fa tornare aspetta un secondo ma c'è un tempo in cui posso stare in volo no è vero posso rimanere ah no perché perché se dunque anche il cloud boots che dopo tanto se cadi non ti fanno danno caduta lo sapevi oh guarda qua ah perfetto iniziano già a spawnare i primi mostri che sono ossessionati da quello là ha messo un blocco di vetro o l'hai messo te quel blocco di vetro no l'hai messo tu prima ti riporto a casa adesso andiamo nel laboratorio ho sistemato il portale cioè lo sistemo adesso però già lo so che l'ho sistemato e puoi tornare nel tuo mondo oh finalmente finalmente qua vedo di tutto ci sono degli ender spider sai che in questa modo aggiunge gli ender spider mi hanno sfondato le porte di casa comunque sono entrati in casa mia non so quanti mostri aiuto ah bene se mi tipi ti cercherò di aiutarti no no tranquillo tanto ormai nel laboratorio segreto non mi possono raggiungere ok perfetto grazie mille dell'aiuto Randy se vuoi comunque puoi andartene con il tuo clone tanto per per provare l'ebbrezza di essere un clone entra qui dentro ti è comparsa una finestra che tipo puoi selezionare il clone prova a selezionare quello tipo di Randy Ren ho già fatto oh mio dio sto oh wow ok è bellissimo adesso io potrò tenere un Randy Ren tutto mio a casa mia rimarrà qui con me è fantastico va bene ti lascio il mio corpo nelle tue mani non farci cose strane tranquillo eh Gabby non farci cose strane off camera chissà cosa potrebbe io ti conosco lo so poi me lo viene a dire il corpo ok va bene è stato un piacere grazie mille dell'aiuto Randy allora noi ci vediamo il portale è sistemato puoi lasciare questo posto sei libero il piacere è stato tutto mio e addio ok ragazzi penso che sia tutto per questo episodio di Minecraft Hardcore fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti magari se volete anche altri episodi in cooperativa anche con altri youtuber quindi io penso che questo sia tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao